Le nuove vie della seta sono un po' lo specchio dei limiti del rapporto Cina-Russia, limiti di cui gli Stati Uniti sono consapevoli, mi invito nel numero a leggere i due articoli sulla prospettiva americana a firma di Dario Fabri e George Friedman che spiegano chiaramente come in realtà l'America non creda a una possibile alleanza tra Pechino e Mosca, perché innanzitutto c'è un problema di aspirazioni imperiali confliggenti, Cina e Russia hanno una storia segnata da alti e bassi sicuramente, in particolare la Cina non dimentica il fatto che quando era impero durante la dinastia Qing, la declinante dinastia Qing, i russi insieme alle altre potenze straniere hanno invaso la Cina e hanno anche privato l'impero di una parte importantissima del nord-est, quindi la Manciuria cosiddetta esterna che oggi effettivamente fa parte dei territori russi. Peraltro questo episodio che risale quindi alla fine del 1800 non è dimenticato né dai cinesi né dai russi e questo emerge anche dalle prospettive e dai discorsi che vengono fatti dagli autori cinesi e russi nel numero, per esempio lo stesso Ho Haijun oppure Yogi sottolineano come nella Repubblica Popolare non abbiano dimenticato che circa un milione e mezzo di chilometri quadrati che erano territori cinese sono adesso in mano russa e questo ha generato un timore per il cosiddetto pericolo giallo. Diciamo che questa diffidenza reciproca tra i due paesi è una delle ragioni per cui gli americani dubitano su una possibile alleanza di lungo periodo, allora uno si potrebbe chiedere per quale motivo gli Stati Uniti che in questa fase storica tentano di arginare l'ascesa cinese sotto tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista commerciale, tecnologico, militare uno si potrebbe chiedere perché l'America non cerca la Russia in questo gioco, in questo triangolo scaleno in chiave antecinese, perché i russi almeno teoricamente potrebbero essere ben lieti di riavvicinarsi agli Stati Uniti. La ragione che frena l'America è che soprattutto gli apparati americani considerano la Russia ancora l'avversario principale in Eurasia, la ragione è innanzitutto geografica, cioè per l'America il teatro decisivo a livello globale è l'Europa e quindi un riavvicinamento dell'America nei confronti della Russia vorrebbe dire concedere a Mosca di espandere nuovamente le proprie attività a ovest, dove invece c'è stata una consistente contrazione dei territori di influenza russa dopo il crollo dell'Unione Sovietica e questa nuova avanzata verso ovest significherebbe ridimensionare la sfera di influenza americana, quindi Unione Europea e Nato ovviamente. E poi dall'altra parte è anche vero che la stessa Russia potrebbe non fidarsi di un simile riavvicinamento perché a Mosca non hanno la certezza che una volta annichilita la Cina gli Stati Uniti non decidano invece di puntare in maniera più forte e decisa a ridimensionare definitivamente le aspirazioni russe in Eurasia.